torniamo alla roma perché marco giallini ci venne a trovare il giorno dopo roma barcellona diciamo lo stato d'animo è differente lo stato d'animo è un po' differente è ritenuto qui con elio germano apposentare lo sono tempesta adesso invece si qui per un altro film e la situazione era un po' diversa eppure all'inizio della stagione con l'arrivo di murigno si aspettavano fuochi di artificio ancora si fuochi di artificio non ti vorrei provocare troppo però tu il tuo essere romanista ma il mio essere romanista poi quando vai avanti col tempo con gli anni eccetera ti rendi conto di tanto ma sei una manica destruzzi no 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 figura di me se abbiamo assist a portavola perché sappiamo poi la reazione scusa lo voglio sapere scarati non te lo posso dire è meglio no perché t'ho visto allora quando si parla dei disgrazi e poi se ridete tutto come non mi pare così e insomma il fatto che uno non mi aspetto più niente perché vabbè poi devo dire una cosa al di fuori perché stiamo in un del regno diciamo del calcio romano e non insomma coriore dello sport e di conseguenza non è vero non è vero che non hai i calciatori però murigno sta nel cuore perché uno che litiga butti i palloni da uno a batte il fallo all'interno il generale dell'altra squadra gli dava la parola vai tranquillo vai vai gli reggia la maglia per non fare l'annata vai per la stai giocata ovvero un non so non sciomento e però ha detto delle cose che non mi sono piaciute ma quello è personale insomma quando dice non c'ho i fenomeni io non ce l'ho allora ma non si dice lo so che lavora con la psicologia però per me magari sbaglio ma per me non si dice a un calciatore magari non è pirlo appena preso Sergio Cosa non è pirlo vabbè ma che cazzo se lo dici su però tira fuori i giovani fenomeni come progetto hai capito quello che voglio dire se dice ho detto una parolaccia si è capito perfettamente allora hai capito quello che voglio dire a parte gli scherzi cioè tante volte rimango così no ci stanno degli allenatori ma Muregno Muregno fino a ieri è venuto a Roma sembra che succede ma abbiamo gol da tutti abbiamo perso partite ma questo succede dai tempi di Ginulfi che avevo 7-8 anni io vuoi dire la formazione della Roma quella che ti rimasta nel cuore Marco? no quella che tutti hanno perso Ginulfi, Scaratti, Petrelli, Salvori, Betta, Santarini, Cappellini, Del Sol, Zigoni, Cordova, Marildo a cambiare c'erano anche pensate Petrelli che ha giocato l'alassio pure beh pulici Petrelli Martini sono di Nanni e alla Scheli Rececconi Chinaia frusta lupita attenzione Chinaia frusta lupita ma che bordi no Petrelli si è fatto tutti e due no? si 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 ma da ragazzini sempre queste cose ma adesso non c'è più manco l'aria del dè ma scusate un attimo all'altro di questo Milan no allora bisogna essere obiettivi nessuno avrebbe detto che l'ultimo turno di campionato no o comunque insomma ci fosse un turno di campionato dove steccassero tutte quante le prime il Milan con la salernità e quindi secondo me è veramente un campionato incerto che dipenderà molto da chi riuscirà ad avere continuità grazie da chi riuscirà ad avere continuità e quindi non si può parlare prima di un certo tempo ma come sei come sei della funne e c'è anche scaramanzia ma dai solo scaramanzia però devi essere più cioè lanciati lanciati ti sospetta pure non è stata una cosa democristiana io ancora spero che venga che vicevole dite cose così dite che odi l'Inter che vorresti vedere degli allenatori morti no non è che ha avuto Ibrahimovic per quasi tutta la stagione anche questo Ibrahimovic è finito dai ecco l'importante è che loro abbiano questa convinzione capisco che dia fastidio dal basso della classifica cerco di stimolare così viene fuori un buon dibattito no per il semplice motivo che il Milan fin quando ragionerà in maniera umile e non da quello che il Milan è stato cioè inventa le classifiche forse riesce a arrivare a tornare io dico la butta quello che è stato si è dell'eterna promessa esatto gli esercierebbe forse un Vlaovic che dici? ma Vlaovic è ottimo per un quarto posto in campionato e per un ottavo di finale Champions non di più che brutto quindi diciamo che il calcio italiano che è ricordiamolo il quarto calcio europeo in questo momento dopo l'Inghilterra la Spagna e la Germania può secondo me con l'eliminazione dell'Italia dai mondiali rifondarsi dal 2023 che dichiarazione perfetto beh 1 a 0 contro la Macedonia e 3 a 0 a Lisbona per loro chiudiamo con un'ultima domanda allora avendo se fosse veramente se avessimo qua davanti se avessimo davanti se fosse veramente Antani un tunnel temporale di Einstein Rosen voi dove andreste? dove mi piacerebbe andare? cosa mi piacerebbe rivedere in passato? io scusami calcistico no 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 non è calcistico io tornerei subito immediatamente una decina di anni indietro a quando visto che quest'anno è il centenario papà ci ha lasciati mi piacerebbe passare un po' di tempo con lui questo si molto volentieri Giallini? troppi troppi tunnel ti servirebbero? no vabbè pure io pure se lui era un fan devo congiarsi però in tema vedi questi film dove ti portano c'è banana cosa però con i padri a sognare queste cose con papà è vero no a me invece mi frega niente io tornerò nel 71 Woodstock mi drogherei come un infante cazzo vuoi dire quello ce l'ho stato io beh direi Iron Manterfly è la chiusura perfetta in tema crimine esatto ci sta ci sta allora grazie mille di essere stati i nostri ospiti ricordiamo l'appuntamento quindi 10 marzo nelle sale italiane c'era una volta il crimine con questi loschi figuri oltre a Gian Paolo Morelli Carolina Crescentini Edoardo Leo Ilenia Pastorelli Giulia Bevilacqua e tanti altri attori Lucio Camerini Rando Ravello e why grazie mille e a presto c'era una volta il crimine ma c'è ancora oggi il cinema andate al cinema assolutamente un saluto alla prossima grazie grazie a tutti Grazie.